Non si è fatta attendere la risposta ai fedeli del vicario della diocesi San Marco Argentano Scalea Don Cono Araugio al centro le recenti polemiche sulle soste notturne della Madonna della Grotta nei giorni 16 e 17 agosto prossimi nelle chiese delle contrade Laccate e Foresta. Una decisione che secondo alcuni stravolgerebbe la tradizione perché ogni sera dopo il suo tour l'effigie della patrona di Praia Mare ha fatto sempre ritorno nella chiesa Sacro Cuore. Per quest'anno no perché secondo Don Araugio chi ha scritto la lettera dovrebbe parlare a nome proprio e non di un comitato dato che al momento non ne fa parte. Ma questa è solo una formalità visto e considerato che la chiesa risponda a tutti. Inoltre un comitato non è un'istituzione ma un organismo che inizia e cessa la propria attività nel momento in cui la festa finisce. Al di là di tutto il vicario mette subito in chiave una cosa. Contemporaneamente in questi stessi giorni ci sono coloro che collaborano con il rettore del santuario. Sono di tutte le parrocchie di Praia Mare e lo stanno facendo in piena comunione con i loro parroci con molti sacrifici. Anche perché devono superare le incomprensioni seminate tra la gente da chi ritiene di essere depositario di una tradizione immutabile. Al punto che tutto ciò che viene proposto per corrispondere meglio alle attese dei fedeli del nostro tempo deve essere rigetta a priori perché non appartiene a questa tradizione. Secondo punto messo in rilievo da Don Araugio. Troppo spesso le feste religiose sono state gestite come delle attività turistiche o commerciali e questo non deve più accadere. Occorre guardare al bene delle anime, il che significa della persona nella sua complessità. Non si vive una festa religiosa e soprattutto alla Vergine Santa per seguire delle tradizioni ma per portare conforto a una comunità, per dare consolazione alle persone che soffrono, che si sentono sole e abbandonate da tutti, per sentirsi comunità, per pregare insieme. Insomma, per Don Araugio bisogna che i fedeli si emancipino e che non guardino alla festa della Madonna della Grotta come a un qualcosa di personalistico, ma di tutti e dell'intero comprensorio, sia servitori del progetto di Dio e non del proprio. Questo in sostanza è il pensiero del vicario, pertanto una sosta notturna nelle chiese delle zone periferiche non stravolge ma va incontro alle esigenze di tutti.